Un lavoro complesso realizzato grazie all'intesa fra Fondazione Museo Diocesano e Università degli Studi di Padova, che hanno messo in campo due giovani e brillanti studiosi per ricostruire la genesi della preziosa collezione composta da disegni e dipinti di Corrado Giacquinto, giunta al Museo Diocesano di Molfetta nel 2013 e donata dalla signora Virginia Piepoli. Noi siamo ben felici di mettere a disposizione della collettività questi locali, questi ambienti con l'augurio che l'arte, ciò che è bello e ciò che verrà esposto non solo prossimamente ma direi anche in futuro possa suscitare il desiderio, la vocazione di tanti, tanti giovani a lasciare dietro di sé il segno di ciò che è bello di ciò che nulla potrà mai spazzare via. Gli storici dell'arte Cecilia Veronese e Francesco De Nicolo hanno riconosciuto le mani di vari artisti che hanno calcato le scene dell'arte del VI e del Settecento nel Sud Italia. È possibile riscontrare la presenza di pittori già nell'ultima metà del Seicento, tra cui Nicola Gliri che è un pittore di Bitonto che ha rappresentato un punto di riferimento con la sua scuola anche per le successive generazioni di pittori, tra cui Saverio Porta, il primo maestro molfettese di Giacquinto e attraverso Nicola Gliri è possibile anche e attraverso anche tutti gli altri pittori come Andrea Miglionico, attivo a Bari e lo stesso Saverio Porta è possibile notare i riferimenti che il giovane Giacquinto nei suoi primi anni di formazione ebbe in Puglia. Grazie a questa ricerca è stato possibile ricostruire la complessa rete di legami personali e professionali anche con la città di Molfetta. Giacquinto è di fondamentale importanza per Molfetta, nasce a Molfetta e la sua esperienza fuori, quindi dal grande caposcuola della pittura napoletana Francesco Solimena e poi a Roma, è di grande importanza per questo suo allievo molfettese Nicola Porta. Nicola Porta studia con Giacquinto, questa è una grande scoperta diciamo di questo momento, studia con Giacquinto a Roma e porta a Molfetta questo grandissimo corpus di disegni che verranno utilizzati all'interno della sua bottega. Questo è un grande ritrovamento, abbiamo trovato moltissimi disegni di Nicola Porta che sono disegni preparatori per le sue opere, ma anche disegni di Nicola Porta che studiano e ricopiano le opere di Giacquinto a Roma. E questo è un grande passo, una grande novità di questa mostra e di questa pubblicazione. Grazie. Grazie. Grazie.